Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. E' risolto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risolto, alleluia. Preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del Tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Per i meriti della Sua Madre, la Vergine Maria, congedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna, per Cristo, nostro Signore. Amén. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amén. O Maria, nel Tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da Te la nostra umanità. E così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a Te, o Maria, grazie al coraggio del Tuo sì. O Maria, tu sei la Madre di Dio, eppure hai conosciuto la povertà, sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie. Le nostre case tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. O Maria, prega per noi. Il primo mistero della gioia ci porta a Nazareth e ci mette davanti la scena meravigliosa dell'Annunciazione. I pittori hanno spesso immaginato l'Annunciazione in un contesto di primavera, per esempio il Beato Angelico. E in verità il Sì di Maria è la primavera del mondo. Con il Sì di Maria si è aperta la strada al Figlio di Dio per entrare nella famiglia umana, la nostra famiglia, per poterla salvare. E la salvezza ormai è a portata di tutti. Basta aprire il cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Il secondo mistero della gioia ci mette davanti una decisione straordinaria di Maria. Dopo l'annunciazione, Maria non pensa a sé, ma dall'angelo ha saputo che Elisabetta è al sesto mese, avrà bisogno di aiuto e senza che nessuno glielo chiedesse, si mette in viaggio e compie questo gesto di umiltà e di carità generosa. Pensate quante volte anche noi potremmo fare la stessa cosa, fare un piccolo viaggio, andare a soccorrere, andare a portare un conforto, un aiuto. O Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un piccolo passo di umiltà e tanti problemi si potrebbero risolvere anche nelle nostre famiglie. Basterebbe un passo. Signore, aiutaci a fare questo passo, perché nel mondo si stanno esaurendo le scorte della gioia. Bisogna cambiare direzione. Bisogna uscire dall'egoismo, perché quella è una strada sbagliata che non renderà mai felici. Padre nostro. Che sei in i cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero della gioia ci mette davanti la notte più luminosa di tutta la storia. È la notte in cui Gesù nacque a Betlemme in una stalla e Maria lo adagiò in una mangiatoia. E gli angeli, che apparvero ai pastori, pastori che sorvegliavano l'igregge, gli angeli dissero, oggi a Betlemme è nato per voi il Salvatore. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. È la segnaletica giusta per arrivare a Betlemme, per arrivare a incontrare Gesù. La segnaletica dell'umiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservasi dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Il quarto mistero della gioia ci fa vedere Maria e Giuseppe che vanno al Tempio per presentare il bambino Gesù al Signore. Ebbene, nel Tempio viveva un uomo di nome Simeone, era anziano, viveva di preghiera e aspettava il compimento delle promesse di Dio, la promessa del Salvatore. Quando vede Gesù, esclama, è Lui, è Lui la luce che illumina tutti i popoli. Chiediamo la grazia di poter anche noi vedere le presenze di Dio accanto a noi, vedere i passi di Gesù accanto a noi. Carlo Carretto un giorno disse, noi spesso ci lamentiamo perché Dio non ascolta le nostre domande, ma in verità siamo noi che non ascoltiamo le sue risposte. Spesse volte è proprio così. Padre nostro. Che sei in Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Amen Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Amen Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Il quinto mistero della gioia ci mette davanti Maria Giuseppe, che cercano Gesù, lo cercano con tanta ansia, lo vogliono ritrovare a tutti i costi e finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia che soltanto Lui può dare. Pensate, Jacques Maritain nel secolo scorso è stato uno dei più grandi filosofi, ma anche un fervente cattolico. Paolo VI, addirittura, alla chiusura del concilio, affidò a lui il messaggio per gli intellettuali di tutto il mondo. Ebbene, Jacques Maritain, fino a 25 anni, era lontano dalla fede, completamente lontano dalla fede. A 25 anni si è convertito, commosso e meravigliato, davanti alla storia di altri convertiti. Léon Bluat, Chalpegui, si è aperto alla fede e ha detto «Gli anni del mio ateismo sono stati gli anni più bui e gli anni più infelici di tutta la mia vita. Con Gesù ho trovato la luce che dà senso alla vita». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di Lui, preghiamo a supplichevoli, e tuo Principe della milizia celeste con la potenza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si agirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve, a te ritorriamo, noi esuri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, Signore, pietà, Signore, pietà, Cristo, pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergine prega per noi, Madre di Cristo prega per noi, Madre della Chiesa prega per noi, Madre della Misericordia prega per noi, Madre della Divina Grazia prega per noi, Madre della Speranza prega per noi, Madre purissima prega per noi, Madre castissima prega per noi, Madre sempre Vergine prega per noi, Madre immacolata prega per noi, Madre degna d'amore prega per noi, Madre ammirabile prega per noi, Madre del Buon Consiglio prega per noi, Madre del Creatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Madre di Misericordia prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Specchio della santità divina, prega per noi, Sede della sapienza, prega per noi, Causa della nostra letizia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi, Rosa mistica, prega per noi, Torre di Davide, prega per noi, Torre d'Aborio, prega per noi, Casa d'Oro, prega per noi, Arca dell'alleanza, prega per noi, Porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Comforto dei migranti, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei marchi, prega per noi, Regina dei veri cristiani, prega per noi Regina delle Vergi, prega per noi Regina di tutti i Santi, prega per noi Regina concepita senza peccato originale, prega per noi Regina assunta in cielo, prega per noi Regina del Santo Rosario, prega per noi Regina della famiglia, prega per noi Regina della pace, prega per noi Regina del cielo e della terra, prega per noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci, Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ascoltaci, Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Prega per noi, Santa Madre di Dio Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo Preghiamo, infondi la Tua grazia, o Signore, nei nostri cuori Perché noi che all'annuncio dell'Angelo Abbiamo conosciuto l'incarnazione del Tuo Figlio Seguendo la via della croce ogni giorno Possiamo giungere alla gloria della risurrezione Per Cristo, nostro Signore Per intercessione di Maria Immacolata Vi riempie il cuore di luce e di pace Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Dovunque andate portate la gioia del Magnificat Andate in pace Rendiamo grazie a Dio Dio Onnipotente Della aurora tu sorgi più bella Coi tuoi raggi fai niente alla terra E fra gli astri che il cielo rincerra Non m'è stella più bella di te Bella tu sento al sole Bianca, più bella, duro E le stelle più belle Non sono belle al par di te Bella tu sento al sole Bianca, più bella, duro Bianca, più bella, duro Bianca, più bella, duro E le stelle più belle Non sono belle al par di te Bianca, più bella, duro Bianca, più bella, duro Bianca, più bella, duro Io Bianca, più bella, duro Bianca, più bella, duro